che cos'è l'insta 360 plus e il nuovo servizio cloud di insta 360 una volta che hai fatto un video o una fotografia che sia a 360 o anche flat con la x3 o la x4 per adesso e questo servizio verrà esteso alle altre telecamere successivamente metti la tua telecamera abilitata all'insta 360 plus in carica la telecamera aspetta 20 secondi minimo che si possono anche cambiare eventualmente e ti farò vedere anche questo la telecamera inizia a lampeggiare con luce verde per segnalare che sta facendo l'upload sul cloud la cosa più interessante di questo processo è che non richiede alcuna azione da parte tua devi mettere solamente la telecamera in carica ci pensa lei a fare tutto ma se volessi farlo comunque manualmente puoi farlo infatti nelle opzioni hanno aggiunto una pagina a sinistra che come puoi notare ti permette di sincronizzare ora il file che ho appena fatto adesso fotografando me stesso se clicco su sincronizza mi dice che la telecamera deve essere messa in carica per effettuare la sincronizzazione anche perché i file potrebbero essere molto grossi e potrebbero richiedere anche un tempo molto lungo di sincronizzazione questo dipende ovviamente dalla tua connessione dati naturalmente come puoi notare in questo momento la telecamera è connessa alla mia rete di casa ma potrai usare anche il tuo telefono come hotspot per la sincronizzazione continua quindi mantenendo il tuo hotspot del telefono acceso e ogni volta che spegni la telecamera la metti nello zaino con un power bank come questo a caricare andrà a sincronizzare tutti i nuovi file non solo abbiamo anche delle opzioni molto interessanti come per esempio la cancellazione automatica dei file all'interno della micro sd della telecamera una volta fatta la sincronizzazione l'upload o il backup diciamo sul cloud dei tuoi file così da mantenere sempre la tua scheda vuota e pronta alla prossima avventura la sincronizzazione si può abilitare o disabilitare le condizioni di sincronizzazione sono anche lì molto interessanti che la capacità della batteria non dovrà essere al di sotto del 20 per cento e anche qua potrai decidere la percentuale ma soprattutto poi decidere dopo quanti secondi la telecamera dovrà iniziare a collegarsi a internet e caricare tutti i video e partiamo da un minimo di 20 secondi fino a mai in realtà le cose più interessanti dell'insta 360 plus non te le ho ancora dette perché una volta fatto questo i nostri file sono sul cloud possiamo accedere a questi file con qualsiasi dispositivo che sia un cellulare o anche un pc come puoi notare non devo collegarmi alla telecamera infatti se vado qua sulla memoria della telecamera che non è collegata non trovo nulla sulla memoria del cellulare non trovo nulla se vado invece qua sulla memoria del cloud come puoi notare abbiamo tutti i nostri video che la telecamera ha appena sincronizzato con il cloud posso effettuare il montaggio effettuare anche un reframing automatico e ti voglio far notare quanto è liscio questo reframing quanto è veloce l'intelligenza artificiale a riconoscermi nel video seguirmi durante tutto il video e questo perché non sta assolutamente utilizzando la potenza di calcolo del mio cellulare ma sta utilizzando la potenza di calcolo dei server insta 360 quindi se hai difficoltà a fare montaggio rendering col tuo cellulare o anche col tuo computer perché fa la stessa cosa col computer non sfrutta il suo processore nella sua memoria ma sfrutta quella potentissima dei server insta 360 per fare questo rendering avendo questo abbonamento avrai accesso anche alla potenza di calcolo dei server di insta 360 non solo potrai per esempio farti prestare il telefono nel treno del tuo amico accedere ai tuoi filmati montarli sistemarli tutti tramite anche un telefono vecchio o anche un computer vecchio che non sia il tuo senza dover avere i file sopra una volta effettuato il reframing come ho detto anche lì potrai sfruttare la potenza di calcolo del cloud e esportare il video come flat per esempio con la massima risoluzione possibile la massima qualità possibile anche se i tuoi dispositivi non sono abbastanza potenti per farlo ma la cosa più interessante è che potrai evitare di esportare il video e condividere direttamente il link al video condividendolo per esempio con whatsapp telegram o altri programmi quello che ho direttamente tramite un link quindi una volta condiviso il link e qualcuno lo clicca o lo mette su un browser qualsiasi come puoi notare abbiamo qui il video che come vedi segue il reframing che abbiamo appena fatto insieme ma se l'utente vuole può comunque girare e vedere qualcos'altro all'interno del video che è una cosa unica del suo genere ma non solo una volta che hai guardato attorno e vuoi seguire la prospettiva che io ho dato durante il reframing basta cliccare qui e come puoi notare l'immagine torna su di me dove io ho deciso che lo spettatore deve guardare non solo abbiamo anche la possibilità di utilizzare il giroscopio interno per girarci e affacciarci a qualcosa altro puoi anche cliccare un'altra volta per seguire la prospettiva insomma hai un video a 360 gradi con la prospettiva già fatta ma è anche la possibilità di guardare altrove cosa davvero unica del suo genere puoi utilizzare per esempio il mega view come puoi notare puoi decidere di vedere il tiny planet così com'è o riseguire la prospettiva un'altra volta insomma chi riceve il link ha la prospettiva che tu vorresti che lui veda ma anche la possibilità di accedere ad altre prospettive che lui può decidere lo stesso video si può condividere in 16 noni o condividere in 9 sedicesimi o anche uno su uno quello che vuoi ma ripeto comunque l'altra persona potrà sempre accedere alla prospettiva che vuole o preferisce in più per quanto riguarda la condivisione tramite il link che può avvenire direttamente libera ma si può anche attivare un codice d'accesso personalizzato per ogni video quindi solamente la persona che ha il link più il codice d'accesso potrà accedere e vedere questo video la stessa cosa si può fare tramite pc o mac o anche linux tramite insta 360 studio che come puoi notare non è collegata a nessuna telecamera non abbiamo niente sulla micro sd perché non l'ho neanche collegata ma troverò tutti i miei file che ho sincronizzato su cloud qui dentro per esempio questa è una fotografia che potrò condividere così come o aggiungerci un'animazione basta cliccare col tasto destro e cliccare condividi a questo punto posso condividere per un giorno solo sette giorni una condivisione permanente con o senza codice d'accesso non solo posso cambiare anche eventualmente il la copertina che verrà visualizzata una volta condiviso il link adesso apro un browser e metto qui il link alla condivisione come puoi notare non mi fa accedere tranne con la password una volta messa la password qui abbiamo la fotografia con una piccola animazione posso zoomare guardare altro insomma faccio vedere a chi voglio quello che voglio far vedere ma avrà anche il pieno controllo di vedere qualcos'altro eventualmente molto utile per esempio per un'agenzia viaggi per un'agenzia immobiliare dove potrai mandare al tuo cliente la fotografia direttamente potrà vedere tutto l'appartamento anche un video intero potrà guardare sarà libero di guardare dove vuole lui e non dove vuole tu a vantaggio del cliente diciamo ma non solo ovviamente potrai condividere con i tuoi amici che potranno potranno zoomare vedere qualcos'altro in una festa vedere qualcun altro una sola fotografia o un video dove si riesce a vedere soprattutto esplorare tutto stessa cosa per quanto riguarda i video posso decidere la porzione del video che vorrei condividere la prospettiva gliela faccio fare direttamente all'intelligenza artificiale che mi riconosce in automatico inizia a fare il tracciamento automatico che adesso interrompo e poi metto qua il mio video che voglio condividere posso cliccare su inizia l'esportazione decido la qualità del video il video viene prodotto all'interno del cloud o in alternativa posso anche condividerlo così come per esempio su whatsapp clicco sul bottone e come puoi notare sul cellulare della persona che ha ricevuto il messaggio a il video con tutti i dati di velocità eccetera eccetera con una prospettiva dove questa persona potrebbe anche guardare altrove se volesse l'insta 360 plus viene offerto in tre pacchetti con vari vantaggi aggiuntivi rispetto alla differenza di spazio a disposizione si può anche pagare mensilmente per quanto riguarda i vantaggi cambiano come vedi in base al pagamento annuale o mensile non solo cambiano anche in base al piano che sia base pro o premium ovviamente il pacchetto premium è quello che offre più vantaggi con 20 euro di sconto sugli accessori e questo ce l'hai immediatamente appena attivi l'abbonamento hai la spedizione prioritaria eventualmente se acquisti un accessorio o una nuova telecamera non solo hai 90 euro di sconto eventualmente su una nuova telecamera che vorresti acquistare purtroppo da quello che ho capito che questo sconto si può avere solamente al tredicesimo mese quindi dovrai aspettare un anno finché ti diano la possibilità di avere questi 90 euro ma non mi è molto chiaro se acquisti il pacchetto premium per un anno rinnovi per un mese in più perché potresti anche rinnovare per un mese solamente quindi a circa 130 euro avresti la possibilità immediata dello sconto di 90 euro dovrai proprio aspettare un anno il che sinceramente non ha tantissimo senso per ultimo con il pacchetto pro e premium hai la possibilità di cambiare la telecamera in caso di danni accidentali causati da te e anche qua abbiamo delle limitazioni scritte nelle pollizze flexi care per la x4 e care per la x3 quindi con il pacchetto premium e pro come se avessi acquistato il pacchetto insta360 care per la x3 e flexi care per la x4 gratuitamente con l'abbonamento plus quindi se sei interessato vai a leggere le condizioni che fondamentalmente garantiscono la sostituzione della telecamera in caso di danni causati da te però accidentali entro 15 giorni dell'attivazione della telecamera ovviamente per maggiori informazioni come al solito ti lascio il link nella descrizione del video con tutto quello che ti serve sapere